Buongiorno ragazzi, torniamo per il challenge del punto vita utilizzando per il nostro primo giorno il nostro elastico. Ok, mettiamo l'elastico sotto i piedi, nel caso che non c'è l'elastico potresti utilizzare un vecchio paio di calze, un fusò, e lasci che il cavallo va sotto i piedi e diciamo le gambe diventano le nostre due braccia se vogliamo intenderci. E destra e sinistra, ok, abdominalitis, ogni volta che scendo provo di tenere dentro la pancia e freno con la pancia. Allora mandatemi innanzitutto un po' di cuorecini se vi piacciono questi challenge e adesso spiego come funziona il challenge. Il challenge funziona nella seguente maniera, ci vediamo tutti i giorni per la prossima tre settimane, oggi siamo, che giorno è oggi? Undici, dodici, fammi riflettere, più o meno, undici, no, dodici, non so che non lo so, sì, dodici, dodici oggi, giusto? Ok, essendo il dodici per tre settimane facciamo tutti i giorni in punto vita. Tu devi adesso scattarti una foto così, una foto così, una foto così, e una foto così, torna davanti. Devi prendere un, diciamo, un centimetro da sarta, misura il tuo punto vita e poi ci vediamo fra tre settimane che cosa succede. Domino alle tesi e questo è lavoro anche la braccia e lo faremo insieme, ho una bel challenge e lo so che vi piace il challenge, un po' di tempo perché non mi vedi, stavo viaggiando veramente tanto. E torno qua, se vi piacciono i live la mattina ho bisogno di vedere i cuorecini di nuovo e ho bisogno di dire sì, partecipo a questo challenge perché per me è lavoro e io mi sveglio per voi, la faccio per voi, però voglio essere sicuro che a voi è gradito questo challenge. Vedo un thumbs up ma non vedo tanti cuori, io ho bisogno di vedere i cuori, ragazzi, senza i cuori qui perdo lo stimolo e se perdo lo stimolo io siamo fritti, se perdo io lo stimolo siamo fritti. Ecco, ok, altro movimento, allora anche io vi mando, anche io vi mando i cuorecini, cuori, adoro i cuorecini e facciamo vedere se ci dà, ogni tanto fa, ogni tanto no, ogni tanto mi dà i fuochi di artificio, oggi non mi dà, ecco fuochi di artificio, ce l'abbiamo fatto, adoro fuochi di artificio. Ok, adesso è partito, adesso vi qua, vado ad allungare e sentirai che si mette in tensione questo lato del nostro braccio, questo altro braccio va dietro la testa, così qui stiamo chiudendo verso il fianco e l'altro sta allungando. Lo facciamo per 20 più o meno, addominali tesi, come se stessimo raccogliendo una mela in su, addominali qui devono essere tirati dentro, il nostro ombilico tirato dentro. Continuiamo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2, stop, cambio, pum 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 pum, vado dall'altra parte, addominali tesi e noi facciamo questo bella bella challenge per le prossime tre settimane. Poi uno dice, di solito uno comincia a fare una challenge, qualcuno dice, ma puoi fare anche in tema coscia, puoi anche fare la schiena, puoi anche fare... Ricordate che potete venire sempre sul mio palestra online a fare quelle che sono elementi singoli, ci sono tanti elementi singoli, 200 video al giorno. Potete veramente andare a scoprire e vedere tante tante opzioni. Continuiamo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop. L'elastico passa sotto i nostri piedi un'altra volta, incrociamo le zampine, le lastre elastici, ok? E tiriamo, destra, tira e tira, tira e tira. Movimento strano, movimento compatto, ma sono varianti diversi, ok? Tira e tira dentro l'addome, ogni torsione, così. Per tutti quelli che si sono appena sintonizzati, che cosa stiamo facendo? Parte il nostro challenge, tre settimane. Ti farò vedere con cinque vari sette minuti di obliquo, di punto vita al giorno. Il vostro punto vita snellerà in tre settimane. Vai, tira, 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 quattro, tre, due, datemi ancora otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e stop. Lascia l'elastico sempre delicatamente, così non rischiate la tetto a fionda. Partiamo oggi, martedì, se non sbaglio il 12 marzo, tre settimane, ok? Così è 12, 19, 26, 2, giusto, 2 aprile. Allora, dopo Pasqua, vedremo, vedremo risultati. Che devi fare? Prendi un centimetro da sarta, da sarta, misura il tuo punto vita oggi. Scatta la foto oggi, e fra tre settimane, ogni giorno ci vediamo, ogni mattina, di fare i nostri esercizi, cinque, sette minuti di punto vita. Questo è il nostro challenge, e lo facciamo, e vediamo quello che succede. Perché lo faccio con il punto vita? Perché con il punto vita so per certa che lo vedrai rapidamente, questi risultati, e questi risultati poi ti sproneranno di continuare, o con i glutei, o con l'interno coscia. E poi, alla fine di questo challenge, facciamo un voto, facciamo un sondaggio per il prossimo challenge. Ok? Magari intorno coscia, o anticellulite, o glutei, o tricipiti, vediamo. Però quello dopo. Adesso parte, mi raccomando, fateli tutti i giorni. Cinque minuti al giorno, punto vita diventerà più snella, e saremo più pronti per il proprio costume. Costume. Facci dare il giro. Vi voglio bene. Ciao!